Anche quest'anno il Consiglio regionale della Basilicata, domenica 23 maggio, ha esposto un drappo bianco accanto alle bandiere istituzionali nel giorno della ricorrenza della strage di Capaci. Il coordinamento delle commissioni e degli osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità dei consigli regionali, guidato dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha accolto l'invito della Fondazione Falcone ad esporre un segno di ricordo e commemorazione nell'anniversario del sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Monti. La mafia, ha detto il Presidente Cicala, ha paura del coraggio e del cambio di cultura, soprattutto dei giovani di questo nostro paese.